Continuiamo a parlare di sfide, di sfida energetica, lo facciamo con l'ultimo appuntamento di questa nostra seconda giornata del Festival del Futuro, quindi invito il direttore Marino Smiderle del giornale di Vicenza a raggiungervi, ritrovando ovviamente, diciamo sfide energetiche. Allora, se pensiamo che nel 2019 il Parlamento Europeo ha dichiarato l'emergenza climatica, qualche mese dopo è stato proclamato il presentato, il Green Deal Europeo per la neutralità climatica entro il 2050. È un percorso nuovo, ma... Parlando di Festival del Futuro, credo che parlare di energia sia la cosa principale, perché il 2050 è il futuro e per il 2050 l'obiettivo è ambizioso, la cosiddetta carbon neutrality, come abbiamo detto. Quindi ne parliamo stasera per vedere se ci arriviamo con chi ne capisce di energia. E chi ne capisce direi che è Paolo Scaroni, presidente Enel, che invito a raggiungerci sul palco. Buonasera, benvenuto, grazie. Ti lascio alla vostra intervista. Grazie, presidente, di essere qui. Parlavo appunto, questo è il Festival del Futuro e l'energia è un tema del futuro, perché tutti ne parliamo ma non sappiamo dove andremo a finire. Ne abbiamo parlato qualche anno fa quando è scoppiata la guerra sul gas, mi ricordo il prezzo scheggiava, adesso è tornato sotto... Ma il futuro vero dell'energia è la transizione energetica. Gli obiettivi, sappiamo, è la prima nel 2015 sul riscaldamento globale a Parigi, COP21. L'obiettivo è, diciamo, entro questa fine del secolo stare al di sotto di due gradi rispetto ai livelli preindustriali, possibilmente intorno a un grado e mezzo, e è a Glasgow il grande obiettivo anche qui di raggiungere la carbon neutrality. Qui abbiamo Paolo Scaroni, che non solo è presidente di Enel adesso, ma è stato amministratore delegato di Enel vent'anni fa, diciamo, 2002. Poi è stato amministratore delegato di Eni dal 2005, altra società di energia, fino al 2014. Insomma, in Italia non c'è nessuno che ne sa come lui di energia. Quindi chiedo a Paolo Scaroni a che punto stiamo con questa transizione energetica. Beh, io parlo volentieri di energia e di transizione energetica perché è un tema che ci riguarda tutti, no? Ci riguarda chi paga le bollette, riguarda le aziende, riguarda l'ambiente, ci riguarda davvero tutti, no? E quindi questo della transizione energetica è un tema un po' salottiero, tutti ne parlano, ma secondo me nessuno sa esattamente dove siamo. E quindi quando ho l'occasione di spiegarlo, di dare un po' un'idea dei problemi che abbiamo davanti a noi, in questo sforzo colossale che abbiamo deciso di affrontare, beh, lo faccio più che volentieri. Ma tu parlavi prima di Parigi. Sì, tutto è nato un po' da questo famoso accordo di Parigi del 2015, in cui si è detto che per evitare che le temperature del nostro pianeta superino di più di un grado e mezzo le temperature che c'erano prima dell'era industriale, bisogna arrivare a questa frase magica che è net zero by 2050, quindi dal 2050 in avanti non più nuova CO2 emessa nell'atmosfera. Questo è l'obiettivo che è stato dato. Beh, questo accordo ha visto tutti che si abbracciavano, si stringevano le mani, però il grado di entusiasmo, il grado di accettazione in realtà era un po' variabile. Gli europei, primi della classe, e malgrado che l'Europa rappresenti 8% delle emissioni di CO2 del nostro pianeta, quindi una percentuale relativamente piccola, ha abbracciato entusiasticamente questi obiettivi stringenti ed è partita a gran velocità. Gli Stati Uniti, beh, insomma, gli Stati Uniti hanno un atteggiamento un po' diverso, tra l'altro democratici e repubblicani guardano il tema della transizione con occhi un po' diversi. La Cina, anche lei, ha detto sì, sì, mi impegno, ma è stato un po' riluttante a prendere questi obiettivi in modo veramente deciso. Apro una parentesi. In Cina, anche oggi, si costruiscono tre centrali a carbone nuove al mese, quindi questo lo dico per dire che non è proprio tutto partito come si sarebbe immaginato. Il più riluttante dei grandi paesi è l'India, l'India che dice, ma scusate, voi europei e americani avete messo un sacco di CO2 nella vostra rivoluzione industriale. Adesso io, che sto iniziando il mio percorso di crescita, mi impedite di usare carbone, petrolio e gas. Non è giusto, quindi l'obiettivo del net zero by 2050 hanno detto, per me è net zero by 2070. E da lì è partita. Allora, dove siamo oggi? Beh, in realtà, devo dire che gli investimenti nelle rinnovabili, le cosiddette nuove rinnovabili, cioè eolico e solare, erano iniziate prima, nel 2004 sono iniziati. Allora, dal 2004 al 2022, quindi fino all'anno scorso, sono stati investiti 4 trilioni di dollari nelle rinnovabili, cioè 4 mila miliardi di dollari. Una somma importante, mi verrebbe da dire ciclopica. E allora, tirare un po' le somme e dire, beh, ma dopo aver fatto tutto questo investimento, dove siamo? Allora, siamo a questo punto. Le nuove rinnovabili, quindi eolico e solare, io parlo sempre del mondo, non sto parlando né dell'Italia, dell'Europa, rappresentano circa il 12-13% dell'energia elettrica che viene prodotta nel nostro pianeta. Però, siccome l'energia elettrica rappresenta solo il 20% dei nostri consumi energetici, le rinnovabili contribuiscono per un 3% del nostro consumo di energia. Quindi uno dovrebbe dire, ma a che punto siamo nella transizione energetica? Beh, insomma, è piuttosto sconsolante pensare che dopo questo sforzo siamo al 3%. Ed è ancora più sconsolante, se io vi dico, come vi dico oggi, che mai nella storia dell'umanità abbiamo usato tanto carbone, tanto gas e tanto petrolio come oggi. Cosa vuol dire? Che questo sforzo nelle rinnovabili non è stato nemmeno sufficiente per coprire l'aumento dei consumi dell'energia. Siccome il consumo di energia aumenta dell'1-1,5% l'anno, queste nuove rinnovabili non sono nemmeno servite a fermare la crescita di carbone, petrolio e gas. Quindi lì siamo. Come conseguenza di questo, mai nella storia dell'umanità abbiamo emesso tanta CO2 come quest'anno. No, questo lo dico perché così ci togliamo dalla mente delle illusioni, no? Ecco, allora poi naturalmente il passo successivo è che cosa fare, no? E io naturalmente non è che dico di fronte a questi numeri piuttosto terrificanti che vi sto dando, dico abbassiamo le braccia. Non dico affatto questo, ma certamente prendere conoscenza che questo tema della transizione energetica di fatto non è quasi nemmeno iniziato, adesso esagero perché in realtà per esempio se vedessi i numeri dell'Europa e anche dell'Italia vedrei dei numeri un pochino più incoraggianti di questi, però interessano poco i numeri dell'Italia e dell'Europa perché il tema della CO2 non è un tema regionale, è un tema planetario, quindi va visto nell'insieme del nostro pianeta, non paese per paese. Quindi, investito, sono stati investiti cifre ciclopiche come ricordavi, ma si tratterà di investire, io penso alla casetta che ho fatto per mio figlio, mi hanno dato i soldi per fare il fotovoltaico, però sono soldi che se non me li avessero dati difficilmente uno va a investirli, quindi l'investimento incide, diciamo, è una politica, però sono soldi pubblici, diciamo, non sono soldi. Quindi volevo chiederti quanto incide questa, è una droga, perché se finisce questa droga nessuno più la fa, oppure è un inizio per cominciare, diciamo, per dare il via alla creazione di una mentalità, un utilizzo di energia politica pulita, almeno nel circuito privato, diciamo così, nel circuito delle abitazioni. Lo dico perché appunto c'è stato in tutti questi anni, periodicamente, ciclicamente, è stata fatta una politica di favorire l'investimento attraverso forti sussi, finanziamenti, diciamo così. Beh, dunque, intanto guardiamo un po' cosa è successo nei sussidi. Quando siamo partiti, qui parlo dell'Italia, ma non solo dell'Italia, anche l'Europa si è mossa nello stesso modo, alle fonti rinnovabili è stato garantito, non solo che tutta l'energia elettrica che producevano veniva comprata, ma anche un prezzo speciale. Adesso vi dico un nome che non dirà molto a molti voi, ma in Italia è stato il cosiddetto CIP6. A un certo punto c'è stato questo CIP6, per cui l'energia elettrica prodotta ai rinnovabili veniva comprata a, non so, 200 euro il megawattora, mentre quella delle energie tradizionali 50, quindi veniva strapagata per favorire l'investimento. Chi pagava la differenza? Voi, nella vostra bolletta. Se girate la vostra bolletta vedete che c'è una voce che serviva a coprire questo delta tra il prezzo che veniva pagato alle rinnovabili e il prezzo dell'alta energia. Poi oggi invece, col programma che dicevi tu, lì è stato un beneficio fiscale, non è che nessuno ti dà soldi per fare l'impianto fotovoltaico a casa tua. Diciamo che tu quell'investimento che fai in dieci anni lo puoi mandare in deduzione fiscale, quindi alla fine sono soldi pubblici, sono, diciamo, mancate entrate e mancate entrate pubbliche. Per fortuna, nel frattempo, i prezzi del fotovoltaico in particolare sono crollati. Calcolate che, grosso modo, oggi un impianto fotovoltaico costa un decimo di quello che costava 15 anni fa. Quindi, oggi l'impianto fotovoltaico diventa redditizio anche senza contributi, senza finanziamenti, senza benefici fiscali. Naturalmente, l'impianto fotovoltaico ha un piccolo difetto che produce se c'è il sole. Quindi non produce se piove, non produce di notte. E quindi, se uno vuole rendersi autosufficiente, deve accoppiarlo delle batterie. delle batterie che gli consentono di accumulare l'energia durante il giorno o anche in quei giorni di sole per far fronte ai giorni piovosi per avere l'energia elettrica sempre. Tutto questo crea un tema batterie, che è uno dei grandi problemi tecnologicamente non risolti, per i quali non esiste una tecnologia, che rendono le batterie costose, pesanti e poco efficienti. Pensate, no? C'è Bill Gates, che a un certo punto ha fatto una dichiarazione e dice, se rivivesse Thomas Edison, voi sapete, Thomas Edison è quello che ha inventato tutto nell'energia elettrica, compreso le batterie, direbbe, ma come? Sono passati cent'anni e dopo cent'anni avete migliorato la performance delle batterie di sole quattro volte per rapporto a quella che avevo inventato io cent'anni fa. Quindi nelle batterie abbiamo tanta strada da fare e io dico sempre, no? Lo dico perché è una considerazione che voi fate. Vedete questo iPhone che ho in tasca, che è prodotto dall'azienda più ricca al mondo, che è Apple? No, se io non la carico tutte le sere, non funziona. No, se esistesse una batteria che invece di durare un giorno, durasse una settimana, vi assicuro che Apple la venderebbe, magari il cellulare lo venderebbe al triplo del prezzo, ma lo dico per dirvi che veramente c'è un buco tecnologico nelle batterie. Vi voglio dare un altro esempio, perché mi do conto che molte cose, la gente non ci si soffermi. Voi sapete quanto pesa la batteria della Tesla? Cioè voi guidate la Tesla e vi portate in giro 540 chili di batteria. No, dico 540 chili. No, ve lo dico per dire che questo terreno delle batterie è un terreno su cui, se non facciamo dei passi in avanti tecnologici, c'è il mondo che ci sta pensando. Se voi andate all'MIT a Boston ci sono centinaia di scienziati che sono lì che si scimuniscono a dire come faccio a inventare una nuova batteria, la batteria al sale, la batteria al cadmio. Cioè è gente che ci pensa. Ma senza batterie meno costose, più efficienti, più leggere, beh le rinnovabili zoppicano, perché per loro natura sono intermittenti e hanno bisogno di batterie per diventare costanti. Allora, detto tutto ciò, per venire a noi, se uno mette in piedi un impianto fotovoltaico a casa sua in un bel tetto esposto a sud, quando produce tanto o non usa, vende l'energia elettrica all'Enel o a chi prega. E poi la ricompra di notte. E vi assicuro che questo è un esercizio che economicamente sta in piedi. Sta in piedi a prescindere dai benefici fiscali. Quindi conta molto l'investimento, conta molto la ricerca, perché credo che ancora nessuno ha la soluzione. A proposito di Tesla che ricordavi come auto, cosa consiglieresti a uno che deve comprare una macchina adesso, non la marca, ma dico che tipo, cioè siamo sicuri che nel 2050 l'auto elettrica sarà quella, perché in questo momento passa questo, io non mi sento di, perché ci sono anche altri tipi di tecnologie in fase di studio, di ricerca, per cui riusciamo a provare a fare una previsione, siamo al Festival del Futuro, per capire che tipo di auto ci sarà da qui a 20-30 anni. Beh, l'Unione Europea ha decretato che a partire dal 2035, quindi tra una decina d'anni, non sarà più possibile produrre e vendere automobili a combustione interna, quindi col motore a scoppio. Allora, è l'unica zona al mondo, negli Stati Uniti non stanno dicendo la stessa cosa, la Cina neppure, quindi fa parte di questa, come forse, questa voglia dell'Europa di essere un po' la prima della classe in questa lotta al cambiamento climatico. Io non sono sicuro che questa data non verrà spostata, perché molti paesi protestano, compresa l'Italia, che protesta, dice che il 2035 è troppo presto, eccetera. Allora, detto tutto questo, sempre per cercare di darvi delle informazioni, delle informazioni a cui la gente non riflette. Allora, se uno ha una presa elettrica a casa sua, premessa, perché se mette la macchina in strada è diverso, e fa tragitti non lunghissimi, cioè vai in ufficio tutte le mattine, magari vai in vacanza, ma non vai in vacanza dall'altra parte del paese e quindi può tutte le sere attaccarsi all'automobile, devo dire che molti dei problemi che crea l'automobile elettrica sono superati e invece ne beneficia non solo di fare qualche cosa di ecologicamente pulito, ma soprattutto costa molto meno. Cioè, ogni chilometro con l'automobile elettrica, con la vostra bolletta di casa, vi costa più o meno metà di un chilometro di un'automobile a benzina. No, no, vi do questa cifra perché molti non ce l'hanno in testa, no? Per cui, alla fine, c'è anche un beneficio economico ad avere un'automobile elettrica. E infatti in molti paesi diciamo, le vendite di automobili elettriche rappresentano 15, 20, 25%, non sto parlando di ibride, sto parlando di full electric, no? Sono una cosa importante. Io penso che tutto questo non possa che aumentare, andiamo in quella direzione. Vedo che anche in Cina molte auto elettriche sono diventate, sono grandi gruppi che stanno costruendo auto elettriche. Sì, la Cina ha questa caratteristica. Produce 60% di energia elettrica da carbone. E poi è l'automobile elettrica. Vi assicuro che se uno ha l'automobile elettrica, però l'elettricità che ci mette dentro viene dal carbone, non è molto green. Se la racconta da sé che è green, ma in realtà non lo è. A proposito, nucleare è green o no? Perché anche lì, come forme alternative, una che potrebbe garantire un certo tipo di quantità di energia è il nucleare. Non si è capito bene se è green o meno, c'è chi lo considera green, chi no. Come lo dobbiamo considerare? Dunque, allora, anche l'Unione Europea ha messo il nucleare all'interno di quelle fonti energetiche che non emettono CO2. Quindi è uno strumento che per la lotta al CO2 è uno strumento efficiente. Tra parentesi, io sono sempre un po' riluttante a parlare di nucleare in Italia, perché gli italiani sul nucleare hanno le loro idee, no? Le loro idee. Per esempio, quando dico che mentre noi stiamo parlando stanno costruendo nel mondo 54 centrali nucleari, mi guardano con gli occhi e dicendo ma come è possibile? il Giappone che ha avuto Fukushima ha appena lanciato otto nuove centrali nucleari, è appena partito la centrale nucleare in Finlandia, ne stanno costruendo una gigantesca in Inghilterra, in Francia ne fanno otto nuove. Quindi, diciamo, questa ripulsione verso il nucleare che ha avuto il nostro paese, ma non solo il nostro paese, non dimentico che la Germania ha appena spento tre centrali nucleari, dicevo, questa ripulsione è che se poi concretizzate in due referendum in cui si è detto l'Italia non vuole il nucleare, beh, fa sì che un dialogo sul nucleare in Italia lo considero un dialogo un po' inutile, perché di cosa parliamo quando gli italiani in due referendum hanno espresso la loro opinione in modo chiaro, bisognerebbe ricominciare da capo, rifare, insomma, sono tutte cose che richiederebbero molti anni e che nel frattempo diventerebbe un argomento di conversazione o di lotta politica o di cose, ma insomma, non si farebbe niente, si farebbero solo un sacco di chiacchiere, quindi io sono sempre un po' rilutante. Quello che posso dire è che sono stato a una riunione a Parigi qualche settimana fa, tre o quattro settimane fa della IEA, la IEA è l'International Energy Agency, quindi è un po' il centro di tutto quello che avviene in energia e lì c'erano almeno dieci ministri dell'energia europei e è tutta gente che visto la lentezza con il quale le nuove rinnovabili crescono, si pongono il tema se alla fine il nucleare non sia una soluzione che dominiamo da un punto di vista tecnologico, perché molte altre soluzioni le immaginiamo, ma non le dominiamo e quindi ripropongono il tema. Ripeto, non sto parlando dell'Italia perché l'Italia con due referendum si è espressa in modo molto chiaro e quindi è inutile che ne parliamo. Il problema è che con questi ultimi anni il gas, il petrolio di solito si vanno a prendere in posti non molto salubri dal punto di vista geopolitico, geopolitico, soprattutto parlo in questi anni di quello che è successo chi era dipendente dalla Russia insomma ci sono stati dei contraccolpi notevoli quindi qualche considerazione sull'approvvigionamento e sulla ricerca di fonti alternative secondo me può aver subito qualche cambiamento nella considerazione credo anche degli italiani. Beh sì però allora da questo punto di vista qui le rinnovabili sono perfette perché le rinnovabili sono nazionali sono locali i pannelli li abbiamo qui non è che li abbiamo da qualche altra parte l'eolico lo facciamo qui quindi se noi potessimo moltiplicare per 10 la nostra la quantità di energetica che produciamo da solare o da eolico o per 20 o per 30 beh avremmo la fonte migliore perché sarebbe nazionale non dobbiamo importare niente da nessuno ecco allora bisognerebbe risolvere il problema delle batterie bisognerebbe risolvere un problema NIMBY cioè anche anche sul solare e soprattutto sull'eolico non è che tutti siano contenti di farlo di averlo vicino a casa eccetera per esempio sull'eolico che è che a me piace molto perché non ha i difetti del solare non è che alla sera le pale si fermano se c'è vento e quindi diciamo è più equilibrata la sua produzione di quanto sia il solare dicevo sull'eolico per renderlo efficiente lo si fa sempre più grande pensate che in Cina hanno appena fatto una torre eolica in cui le pale hanno un diametro di 200 metri una cosa gigantesca ecco quell'impianto è estremamente efficiente nella produzione però diventa rumoroso perché queste pale così allora finché lo fai in una zona disabitata tutto bene tutto ok quando pensi di farlo nel nostro paese che è così abitato un po' da tutte le parti corri il rischio di avere delle reazioni d'altra parte ecco le soluzioni miracolose in cui hai tutto e non paghi nessun prezzo temo che non esistano temo che non esistano quindi dovremo trovare dei compromessi e dovremo lavorarci molto e d'altra parte questa è una battaglia che dobbiamo dobbiamo fare fino in fondo e vincere l'eolico mi viene in mente quando passo sopra la manica in aero in mezzo al mare ci sono lì devo dire forse danno meno fastidio dal punto di vista ricordarvi appunto la dimensione di rumore però lì non ci sono turisti quando si pensa di mettere nell'adriatico già si comincia a dire sì ma i turisti che quando guardano il tramonto vedono le pale invece del sole cioè voglio dire a parte poi che l'eolico a mare funziona bene nei mari poco profondi tipo il baltico perché ci si ancora terra ecco quando il mare sono mille metri devi farle galleggianti quindi entri in un mondo molto più costoso su cui anche questo è un aspetto tecnico su cui ci si sta impegnando molto e a che punto siamo perché questo mi affascina molto perché si capisce quanto importante sia la ricerca lo studio ricordavi prima quanti si stanno pensando sia per le batterie sia per immagino l'idrogeno mi viene in mente c'è un mondo che si sta credo concentrando sulla ricerca proprio nel campo dell'energia ecco volendo anche qui fare un festival del futuro da questa ricerca cosa potrebbe uscire di nuovo qual è la scoperta che potrebbe essere la chiave per cambiare il changeover del settore beh i fronti sono molti per esempio i pannelli fotovoltaici oggi oggi nella migliore dell'ipotesi trasformano in energia elettrica 25% dell'energia del sole in laboratorio si è riuscito ad arrivare a 48% uno potrebbe sognare ad arrivare all'80% anche immaginatevi che si va dall'80% occupando la stessa superficie di terreno o di un tetto si produce il quadro un po' di più di energia e questo dunque scusate lo dico così da un punto di vista anedotico la tecnologia del solare è vecchissima è stata addirittura inventata prima della seconda guerra mondiale però i pannelli solari prima della seconda guerra mondiale producevano trasformavano in elettricità l'un per cento dell'energia del sole questo lo dico per dire che c'è molto progresso che si può fare poi ci sono le soluzioni più avveniristiche ce n'è una in particolare che a me affascina che è quella che poi è meno avveniristica di quello che sembra adesso che ve la racconto che è quella di lanciare dei satelliti stazionari che si espandono diventano di un grande superficie e raccolgono i raggi del sole sempre perché loro girando insieme la terra prendono sempre il sole poi da lì vengono lanciate delle microonde su apposite basi che vengono costruite qui a terra queste microonde vengono ritrasformate in energia elettrica allora a questo punto otterremmo un primissimo vantaggio che l'energia solare non è più intermittente perché c'è sempre quindi un enorme vantaggio in secondo luogo evitiamo di riempire la terra di pannelli solari perché li abbiamo lassù allora tutto questo sembra un po' avveniristico effettivamente un po' lo è però leggevo che si pensa di fare il primo esperimento su scala adesso su scala diciamo stiamo sempre sul terreno degli esperimenti ma su una scala in cui puoi veramente misurare le cose nel 2027 2028 quindi nemmeno lontanissimo nel tempo allora tutte queste questi sforzi sul terreno delle tecnologie dell'innovazione delle rivoluzioni sono attraggono una quantità di investimenti di persone di scienziati incredibile perché cosa c'è di più importante di quello che vi sto raccontando per l'umanità cioè l'energia noi noi viviamo di energia noi cioè l'energia è tutto per noi se non abbiamo l'energia e l'energia elettrica beh la nostra vita cambia in modo drammatico no quindi un prodotto universale come l'energia di cui abbiamo un bisogno estremo che produciamo in un modo che minaccia l'ambiente beh attrae per definizione degli sforzi colossali allora poi vogliamo essere ottimisti e pensare che troveremo le soluzioni bene ecco vogliamo essere pessimisti e dire non le troviamo e dovremmo forse cambiare anche il nostro modo di vivere il nostro stile di vita perché chi ha detto che dobbiamo prendere un aereo andare in vacanza non so non so dite voi dove spendendo 50 euro perché easy jet però da un punto di vista ambientale facciamo un sacco di emissioni cioè potremmo anche rivedere il nostro il nostro stile di vita per avere uno stile di vita più risparmioso sotto il profilo delle emissioni tutto questo temo che sarà necessario se non continueremo a investire a accettare dei compromessi perché poi qualche compromesso va accettato a finanziare la ricerca e credo che sia una grande battaglia che dobbiamo fare fino in fondo e vincere grazie a Paolo Scroni per questo splendido viaggio nel futuro che ci ha fatto fare mi sembra il modo più degno per concludere la giornata di oggi in questo viaggio nel futuro dell'energia grazie Presidente Scaroni grazie e grazie davvero per questo grazie a tutti